Una sola frase, il primo pensiero è rivolto alle difficoltà e alle speranze dei nostri concittadini italiani e poi un gesto inequivocabile, per prima cosa ha reso omaggio alle vittime delle fosse ardeatine. Si è presentato così nella sua sobrietà Sergio Mattarella, dodicesimo Presidente della Repubblica. Tra i 665 voti raccolti al quarto scrutinio ci sono anche quelli dei sei elettori molisani, i quattro parlamentari, Ruta Di Giacomo, Venitelli e Leva, e i due consiglieri, Totaro e Dinunzio, Iorio, come indicato da Forza Italia, ha votato scheda bianca. Un coro unanime sulle qualità morali della persona, dal quale si sono discostate solo le voci di Lega e Movimento 5 Stelle. È Roberto Ruta a conoscere meglio Sergio Mattarella, esponente della sinistra democristiana, quando l'attuale senatore muoveva i suoi primi passi in politica. Sarà punto di riferimento per le nuove generazioni il commento a caldo di Ruta, per il tratto discreto e deciso, per l'alto senso di appartenenza alle istituzioni e come testimone dei valori della migliore tradizione dei cattolici democratici. Abbiamo votato una persona di spessore, ha affermato Ulisse Di Giacomo, un uomo di grandissima personalità e garante delle istituzioni democratiche. Il senatore del nuovo centrodestra, insieme ad altri dieci esponenti del gruppo, è stato tra i primi nel suo partito a sostenere l'ipotesi Mattarella, invece della scheda bianca annunciata in un primo momento da NCD. Per Laura Venitelli il Parlamento ha dato prova di una grande maturità politica, ma va dato atto a Matteo Renzi, ha aggiunto la deputata termolese, di aver costruito un vero capolavoro attorno a una figura così alta. L'uomo giusto lo ha definito Danilo Leva in un momento così delicato per il nostro paese. La sua elezione, ha concluso il deputato Di Fornelli, è un presidio delle istituzioni democratiche. Emozionante per Francesco Totaro aver eletto un galantuomo che conosce a fondo le istituzioni, il cattolico democratico, ha commentato l'altro consigliere del PD, Domenico Dinunzio, che speravo di poter votare ed eleggere. Con l'onore delle armi, Iorio, che ha messo nel canestro una scheda bianca, secondo il quale è stato eletto un presidente molto forte e autorevole, ma ora, ha concluso l'esponente di Forza Italia, il governo è più debole. Sergio Mattarella, già al lavoro, ha raccontato il figlio a poche ore dall'elezione al Colle, giurerà martedì mattina fedeltà alla Repubblica da capo dello Stato.